Ti sei mai chiesto se esiste un modo per liberarti definitivamente da povertà, debiti e sfortuna? Immagina di trovare una chiave antica, nascosta tra le pagine di un vecchio libro nella soffitta della nonna. Questa chiave non apre porte fisiche, ma porte spirituali, sbloccando abbondanza e serenità nella tua vita. Oggi ti racconteremo di un rituale semplice ma potente, che abbiamo scoperto in un momento di vibrazioni molto basse. È un rituale che ha trasformato non solo gli aspetti materiali della nostra vita, ma anche il nostro benessere interiore. Perché seguire il video fino alla fine? Ti mostreremo come personalizzare il rituale per adattarlo alla tua vita, promettendoti una trasformazione profonda. Non perdere le storie di chi ha cambiato radicalmente la propria vita con questa pratica. Benvenuti su Ricarica Mentale, unisciti a noi in questo viaggio trasformativo, ispirati dagli insegnamenti di dolore Scannon. Iscriviti al canale e clicca sulla campanella delle notifiche per altri video straordinari. Il rituale in dettaglio. Ora, entriamo nel cuore della questione. Questo rituale non è complesso, ma richiede sincerità e apertura spirituale. Si inizia con la scelta di un oggetto simbolico, qualcosa che rappresenta le tue paure, i tuoi debiti e le tue sfortune. Potrebbe essere una vecchia ricevuta, una fotografia, o anche un piccolo oggetto che senti ti porti negatività. L'importante è che questo oggetto simbolizzi ciò che desideri eliminare dalla tua vita. Preparazione dell'ambiente. Prima di immergerti nel rituale, è essenziale preparare un ambiente che favorisca la calma e la concentrazione. Questo spazio diventa un santuario temporaneo, un rifugio dal caos quotidiano dove puoi riconnetterti con il tuo io più profondo. Accendi alcune candele per diffondere una luce morbida e accogliente, che invita alla riflessione e alla serenità. La fiamma tremolante di una candela può avere un effetto ipnotico, aiutandoti a distogliere la mente dalle preoccupazioni del giorno. Scegli una musica dolce e rilassante da sentire in sottofondo. La musica ha il potere di trasportarci in stati d'animo diversi, di alleviare lo stress e di aprire la mente a nuove percezioni. Un sottofondo melodico può essere un potente alleato nel tuo rituale, creando un'atmosfera che facilita la meditazione e l'introspezione. L'uso di essenze calmanti come la lavanda o il sandalo può trasformare profondamente l'atmosfera durante il rituale. Il profumo è un potente catalizzatore di emozioni e ricordi, e diffondere aromi che evocano tranquillità può aiutarti a rilassarti e ad aprire mente e cuore. Questi aromi servono come ancoraggi sensoriali che intensificano la tua connessione con il presente e rendono il rituale più efficace, trasformando il tuo spazio in un luogo sacro di pace e riflessione. Ora, l'esecuzione del rituale. Una volta preparato l'ambiente, prendi l'oggetto che hai scelto e tienilo stretto nelle tue mani. Chiudi gli occhi e immergiti in respiri profondi e calmi, sentendo l'oggetto tra le mani come un ponte tra il passato che vuoi lasciare e il presente che vuoi vivere. Può emergere un senso di peso, di ansia o di tristezza. Accoglilo, perché riconoscere queste emozioni è il primo passo verso il loro superamento. Quando sei pronto a lasciare andare, il gesto di buttare l'oggetto nel gabinetto diventa un simbolo potente di purificazione e liberazione. È un atto che va oltre il semplice sciacquare via l'acqua, è liberarsi di un fardello. Mentre guardi l'oggetto scomparire nell'acqua, immagina che con esso si dissolvano anche tutte le tue paure e preoccupazioni. Questa visualizzazione aiuta a concretizzare la sensazione di lasciare andare, di fare spazio a ciò che verrà. L'acqua che trascina via l'oggetto simboleggia il flusso del tempo e della vita, aprendoci a nuove opportunità e a una rinascita. È un momento di rinnovata speranza, che ci invita a guardare al futuro con leggerezza e fiducia, costruendo su basi più serene. Ora, le riflessioni post-rituale. Dopo aver completato il rituale, prenditi un momento per riflettere sull'esperienza. Come ti senti? Più leggero? Più libero? È essenziale riconoscere e accettare qualsiasi emozione emerga. Questo processo di riflessione è tanto importante quanto il rituale stesso, poiché segna il primo passo verso una vera trasformazione interiore. Testimonianze di chi ha provato il rituale. Non prendere solo la nostra parola per quanto riguarda l'efficacia di questo rituale. Ascolta le storie di chi l'ha provato e ha visto cambiamenti significativi nella propria vita. Marco, per esempio, era sommerso dai debiti e dalla sfortuna. Dopo aver partecipato al rituale, ha trovato il coraggio di affrontare le sue finanze e, entro un anno, era completamente libero dai debiti. La sua storia è solo una delle tante che dimostrano quanto sia potente questo semplice atto di liberazione. Ora, potresti chiederti, è davvero possibile che un gesto così semplice possa portare a cambiamenti così significativi? La risposta è dentro di te. Sei pronto a liberarti del passato e abbracciare un futuro di abbondanza e felicità? La scienza dietro il rituale. Potresti domandarti, esiste una base scientifica che supporta l'efficacia di rituali come questo? La risposta è sorprendentemente affermativa. Studi nel campo della psicologia positiva e della neuroscienza hanno mostrato che atti simbolici e rituali possono influenzare profondamente il nostro benessere emotivo e mentale. Questi gesti, sebbene semplici, aiutano a creare un senso di controllo e ordine nella nostra vita, riducendo lo stress e aumentando la nostra forza interiore e adattabilità, agli shock emotivi. Il potere della ritualità aiuta a stabilire una chiara demarcazione tra ciò che desideriamo lasciare alle spalle e i nuovi inizi, fornendo una struttura emotiva che facilita il passaggio. Contrasti e comparazioni. Confrontiamo il nostro rituale con altre pratiche spirituali. Mentre la meditazione si concentra sull'attenuare la mente e raggiungere un senso di pace interna, il nostro rituale si impegna attivamente nel processo di trasformazione personale attraverso azioni simboliche. Entrambi gli approcci sono preziosi, ma il nostro rituale offre una via di azione più diretta per chi cerca un cambiamento tangibile e più immediato. Inoltre, a differenza delle pratiche che richiedono lunghi periodi di apprendimento o specializzazione, il rituale che proponiamo è accessibile a tutti, indipendentemente dalla loro esperienza precedente con la spiritualità. Domande retoriche per riflessione. Ora, lascia che ti ponga alcune domande per stimolare la tua riflessione. Credi che cambiare un aspetto della tua vita possa influenzare tutto il resto? Pensi che liberarti di un piccolo oggetto possa realmente liberarti di grandi pesi emotivi? È possibile che un semplice atto simbolico abbia il potere di trasformare la tua realtà? Queste domande non sono solo per provocare pensieri, ma per invitarti a esplorare più profondamente il potenziale di trasformazione personale che il rituale può sbloccare. La risposta a queste domande può guidarti a una comprensione più intima e personale del potere dei rituali nella tua vita. Mantenere i benefici a lungo termine. Questo rituale è solo l'inizio. Per mantenere i benefici a lungo termine, è importante integrare nuove abitudini positive nella tua vita quotidiana. Dedica del tempo ogni giorno alla meditazione, alla scrittura di un diario, o a qualsiasi altra attività che favorisca la riflessione e la crescita personale. Ricorda, la trasformazione spirituale è un viaggio, non una destinazione. Continuando da qui, approfondiremo come personalizzare il rituale per adattarlo a diverse situazioni di vita, esploreremo ulteriormente le testimonianze e le storie di successo, e forniremo risorse utili per chi desidera esplorare più a fondo questa pratica. Resta sintonizzato per scoprire come questo semplice rituale possa essere il primo passo verso una vita libera da vincoli e piena di possibilità. Integrazione nella vita quotidiana. Integrare questo rituale nella tua vita quotidiana significa creare un momento di pausa e riflessione, un ancora di salvezza nei giorni più tumultuosi. Non è necessario attendere un momento di crisi per ricorrere al rituale. Anzi, praticarlo regolarmente può rafforzare il tuo spirito e prepararti meglio alle sfide future. Puoi iniziare con piccoli gesti, come dedicare 5 minuti ogni mattina a riflettere sulle cose che desideri lasciare andare, o magari scrivere su un pezzo di carta pensieri negativi e bruciarlo simbolicamente. Questi atti non solo mantengono viva la pratica, ma aiutano a coltivare una costante consapevolezza della tua evoluzione personale e spirituale. Errori comuni e come evitarli. Un errore comune nell'approcciarsi a questo tipo di rituali è l'aspettativa di risultati immediati e miracolosi. È fondamentale capire che il cambiamento è un processo graduale e che ogni piccolo passo contribuisce al tuo sviluppo. Un altro errore è la non regolarità. Saltare le pratiche o non dedicare il giusto spazio e tempo al rituale può diminuirne l'efficacia. Infine, è essenziale evitare di svolgere il rituale in modo meccanico senza una vera intenzione. Il cuore del rituale risiede nel significato e nell'energia che vi si immette. Ricorda, l'efficacia di questi atti simbolici deriva dalla tua fede e dal tuo impegno nel processo di trasformazione. Il ruolo della fede e dell'intenzione. La fede e l'intenzione sono le vere colonne portanti di qualsiasi pratica spirituale. Senza una genuina intenzione di cambiare e una fede nel processo, anche il più potente dei rituali può ridursi a un mero esercizio estetico. Quando pratichi il rituale, fallo con una piena fiducia nel suo potenziale di trasformazione. Credi fermamente che ogni azione compiuta con intenzione possa lavorare profondamente sul tuo essere, facilitando un cambiamento reale e duraturo. Lascia che la tua fede guidi i tuoi atti, e vedrai come il rituale si arricchisce, diventando una potente espressione del tuo desiderio di evoluzione e benessere. Personalizzazione del rituale per diverse situazioni di vita e storie di adattamento creativo del rituale. Ogni persona è unica, e così dovrebbe essere il suo approccio spirituale. Non esiste una formula unica per tutti quando si parla di crescita personale e spirituale. Per questo, è fondamentale adattare il rituale alle tue specifiche esigenze e circostanze. Che tu sia un giovane studente, un professionista affermato, o un genitore, ci sono modi per modellare questo rituale affinché risuoni con la tua vita personale. Ad esempio, se sei un genitore, potresti voler coinvolgere la tua famiglia nel rituale. Questo può trasformarsi in un momento di insegnamento per i tuoi figli, mostrando loro l'importanza del lasciar andare ciò che non serve più. Se, invece, sei immerso nel mondo del lavoro, potresti focalizzarti sul liberarti dello stress e delle pressioni professionali che opprimono il tuo spirito. Lucia, una giovane imprenditrice, ha adattato il rituale per aiutarla a superare le sfide dell'avvio di una nuova attività. Ha scelto di liberarsi simbolicamente delle sue paure e incertezze riguardo al futuro della sua azienda. Dopo il rituale, ha trovato la forza di affrontare le sfide con rinnovato ottimismo e determinazione. Un altro caso è quello di Stefano, un artista che ha lottato con il blocco creativo per mesi. Ha usato il rituale per sciacquare via le sue frustrazioni e i suoi dubbi, permettendo così alla sua creatività di fluire liberamente di nuovo. Le storie come quella di Stefano dimostrano come un semplice atto simbolico possa avere un impatto profondo sul nostro benessere emotivo e professionale. Reazione dei carissimi e consigli per la comunicazione efficace. Quando intraprendi un percorso di crescita spirituale, non è raro incontrare resistenza o scetticismo da parte di amici e familiari. È importante affrontare queste reazioni con empatia e apertura. Spiega loro il significato e i benefici del rituale, e invitali a supportarti, anche solo comprendendo il tuo bisogno di esplorare nuove pratiche spirituali. Elena, per esempio, ha trovato resistenza quando ha introdotto il rituale ai suoi genitori. Con pazienza, ha spiegato loro come il rituale l'avesse aiutata a superare un periodo difficile. Col tempo, anche loro hanno iniziato a vedere i cambiamenti positivi nella sua vita. La comunicazione aperta e onesta è stata la chiave per trasformare la loro iniziale resistenza in supporto. Risorse e strumenti aggiuntivi. Per approfondire, esplora libri, corsi online e workshop che arricchiranno la tua pratica del rituale. Questi strumenti non solo offrono dettagliate guide, ma anche la possibilità di connettersi con una comunità di simili interessi. Ti suggeriamo le opere di esperti come Dolores Cannon, che hanno esplorato il potere della mente e dello spirito. Un workshop può anche darti preziose esperienze dirette e consigli da esperti. Esercizi di meditazione e visualizzazione. Integrare al nostro rituale la meditazione e la visualizzazione risultano tecniche potenti per mantenere e amplificare i benefici ottenuti. Dedica almeno 10 minuti al giorno alla meditazione, focalizzandoti sulla visualizzazione di te stesso, libero da ogni legame negativo e circondato da positività. Un esercizio efficace è visualizzare un fiume di luce pulita che scorre attraverso di te, portando via tutte le energie negative e lasciando spazio solo a quelle positive e rinnovatrici. Questo tipo di pratica non solo rinforza i risultati del rituale, ma promuove anche un benessere generale e un equilibrio interiore. Impatti sociali e comunitari del rituale. La pratica di questo rituale non influisce solo sul singolo individuo, ma può trasmettere onde positive anche all'interno della comunità più ampia. Quando le persone si sentono liberate dai loro fardelli personali, sono più inclini a contribuire positivamente alle loro famiglie, ai loro amici e alle loro comunità. Questo effetto a catena può trasformare intere comunità, promuovendo un senso di supporto, comprensione e connessione tra le persone. Immagina una comunità dove ogni membro si sente valorizzato, libero dalle proprie insicurezze e pienamente capace di offrire il meglio di sé agli altri. Questo è il potenziale di trasformazione che il nostro rituale può attivare. È una pratica che invita non solo alla crescita personale, ma anche al sostegno reciproco e alla costruzione di un tessuto sociale più forte e coeso. Esempi di iniziative comunitarie ispirate dal rituale. Un esempio concreto di questo impatto comunitario si può vedere in un gruppo di quartiere che ha deciso di organizzare incontri mensili dove i membri condividono esperienze e praticano il rituale insieme. Questi incontri hanno non solo rafforzato i legami tra i vicini, ma hanno anche creato un ambiente di supporto dove le persone possono esprimere apertamente le loro sfide e trovare conforto e soluzioni condivise. Un'altra iniziativa è stata avviata da una scuola locale, che ha integrato concetti simili al nostro rituale nel suo programma di educazione emotiva. Gli studenti imparano l'importanza del lasciare andare le emozioni negative e come le pratiche di purificazione possono aiutarli a gestire lo stress e migliorare le loro relazioni con compagni e insegnanti. Sfide e attività interattive. Per mantenere l'interesse e l'impegno, ti proponiamo una sfida. Prova il rituale per 30 giorni consecutivi e documenta i cambiamenti che noti nella tua vita. Usa un diario per riflettere su come ti senti prima e dopo il rituale ogni giorno. Questo non solo ti aiuterà a vedere i progressi, ma ti permetterà anche di personalizzare ulteriormente il rituale in base alle tue esperienze. Incoraggia anche i tuoi amici e i membri della famiglia a partecipare. Potete confrontare le vostre esperienze e supportarvi a vicenda nel processo. Questa attività interattiva non solo rafforza i legami, ma aiuta anche a creare una rete di supporto che può essere vitale nei momenti di difficoltà. Riflessioni finali e incoraggiamenti. Abbiamo esplorato un rituale trasformativo che muta la pesantezza e negatività, in leggerezza e positività. Ricorda, ogni passo del rituale ti avvicina alla tua liberazione e a una vita più felice. Ora, rifletti, non puoi fermarti qui. Esplora, adatta e pratica continuamente. Condividi le tue storie per ispirare altri. Mai sottovalutare il potere di un gesto liberatorio. Hai il potere di cambiare la tua vita e, forse, anche il mondo. Se questo video ti ha ispirato o aiutato in qualche modo, ti invitiamo a lasciare un like e a iscriverti al canale per non perdere altri contenuti che potrebbero illuminare e arricchire ulteriormente il tuo percorso spirituale. E ricorda, la chiave per una vita piena e ricca, non è cercare sempre nuovi orizzonti, ma vedere con nuovi occhi ciò che già possiedi. Ti ringraziamo per aver condiviso questo tempo con noi, e non vediamo l'ora di sentire le tue storie di trasformazione. Condividi il video a coloro cui vuoi bene. Fino alla prossima volta, mantieni il tuo spirito alto e il tuo cuore aperto. Grazie di cuore, da Ricarica Mentale.